Doveva essere picchiato e non ucciso. È questo uno dei retroscena che sarebbe emerso all'indomani delle rivelazioni del neocolaboratore di giustizia Salvatore Bonomolo, detto Salvino, di 52 anni, sull'omicidio dell'avvocato Enzo Fragalà. Bonomolo, che sta finendo di scontare una condanna di 10 anni e 4 mesi, ha messo a verbale di aver appreso notizie importanti sul delitto del compagno di Cosca e di Cella Giuseppe Uteri, già indagato e poi prosciolto per l'omicidio del legale. Si sarebbe trattato, secondo le dichiarazioni di Bonomolo, di un favore per quelli di là sopra, un riferimento criptico che per la procura distrettuale antimafia richiamerebbe al mandamento di Paiarelli retto dal boss della cupola, Nino Rotolo. Salvatore Bonomolo, esponente della famiglia di Portanuova, arrestato in Venezuela nel 2012, avrebbe cominciato a collaborare con i PM già da diverse settimane. Per lui è stata disposta la protezione per i familiari trasferiti in una località riservata. La sua ricostruzione dei fatti confermerebbe quella raccontata dal collaboratore di giustizia Francesco Chiarello. Fragalà è morto dopo essere stato violentemente picchiato a febbraio di sette anni fa.